Servono oltre 400 milioni di risorse pubbliche e 260 milioni di capitali privati per trasformare in realtà il piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Catania, appena approvato dal Consiglio Comunale. È il libro dei sogni dell'amministrazione comunale per il prossimo triennio, tutto quello che il Municipio si propone di realizzare entro il 2022 per rendere più vivibile il capologo etneo, con tre ordini di priorità, massima, media e minima. Alla prima categoria, cioè le opere da realizzarsi con priorità massima, appartengono le due torri di Librino, i due palazzoni popolari che sorgono di fronte al Palazzo di Cemento e che, con 6 milioni di euro per ciascun palazzo, dovranno diventare alloggi popolari riqualificati. 3 milioni e mezzo di euro serviranno invece per trasformare in un centro di inclusione sociale un edificio in via Rocchietti, traversa di via Giovanni di Prima, nel cuore del quartiere a luci rosse di Catania San Berillo. Nel quartiere di Canalicchio, invece, si trova l'immobile confiscato di via Cefali. Serviranno 1 milione e 800 mila euro, 600 mila euro in più rispetto a quando è stato realizzato lo studio di fattibilità per quello che sarà un albergo sociale. Ai tempi, era in lontano 2018, l'amministrazione dichiarava che sarebbero bastati 1 milione e 200 mila euro. Quell'importo oggi è lievitato. L'ultimo degli interventi a priorità massima è il potenziamento del BRT, la linea rapida di trasporto pubblico urbano che viaggia su corsia riservata. Sarà necessario un altro milione e mezzo di euro. Da segnalare, invece, è che tra gli interventi a priorità minima risultano quelli legati al rischio idrogeologico. Il completamento del collettore pluviale, la sistemazione idraulica di torrenti, affluenti e canali. Milioni di euro che dovrebbero essere sul punto di essere spesi per una città che finisce sott'acqua alle prime piogge, ma per i quali non si è arrivati neanche all'ultimo stato di progettazione.